Stringeranno nelle mani un'agenda rossa, simbolo ormai da anni, di quella verità giudiziaria che manca. Il corteo del Movimento delle Agende Rosse partirà tra poco da dove viveva il giudice Borsellino e arriverà fino a qui, fino a Via D'Amelio. Niente passerelle, vogliamo soltanto verità e giustizia. Questo è il grido che arriva dalla famiglia Borsellino che non sarà presente a questo trentennale. Quest'oggi l'omaggio del capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, al reparto scorte della caserma Lungaro di Palermo. Accanto a lui, Manfredi Borsellino, uno dei figli del giudice, oggi è commissario di polizia. Ma dicevamo, nessun intervento pubblico dal palco che è stato montato qui accanto a me, la protesta del silenzio così è stato detto. Per quelle verità giudiziarie che mancano da tanto tempo.